Presentata all'Università degli Studi di Teramo la prima fiera al lavoro, inclusione per l'Abruzzo, evento organizzato dagli Atenei abruzzesi con il sostegno della regione in programma dall'8 al 12 novembre. Iniziativa pensata a far incontrare piccole, medie e grandi imprese e talenti provenienti dagli Atenei abruzzesi in cerca di opportunità. È la prima volta che nella nostra regione viene organizzata la fiera del lavoro che ho voluto fortemente insieme all'Università abruzzesi, anche alla luce della situazione emergenziale sanitaria, vedendo le varie crisi che ci sono, problemi occupazionali. Sicuramente questo evento della fiera, appunto, che è una novità per l'Abruzzo, riteniamo che possa essere utile per l'ingrocio domande e offerte di lavoro, perché coinvolgiamo tanti studenti, ma anche tante aziende, circa 50 che hanno dato il progetto e poi abbiamo il supporto tecnico di Alma Laurea che appunto è specializzata per la collocazione del lavoro. Ci saranno tanti eventi dall'8 al 12, webinar, tavole rotonde, in cui si parlerà anche delle misure che metteremo in campo come Regione Abruzzo per incentivare l'occupazione, mantenere il livello occupazionale e soprattutto cercare di trovare quei profili che spesso mancano nel mondo del lavoro e andarli a formare. Durante i cinque giorni di evento, laureandi e neolaureandi potranno conoscere da vicino le circa 50 imprese del territorio aderenti all'iniziativa, grazie ai workshop aziendali di presentazione che si terranno durante i primi tre giorni e i colloqui individuali che si svolgeranno negli ultimi due. È fondamentale questa sinergia tra Regione e Università perché spesso serve questa appunto sinergia per cercare appunto che il ragazzo che si sta laureando oppure è laureato con l'aiuto dell'istituzione possa trovare lavoro perché invece hanno delle difficoltà. In questo ambito stiamo rilanciando anche il ruolo dei centri per l'impiego che devono veramente fare da filtro tra domande e offerte di lavoro quindi li potenzieremo e cercheremo di mettere ulteriore personale per dare un servizio maggiore.